Voglio diventare amica di Anthony Voglio diventare amico di Anthony Voglio diventare amica di Anthony Voglio diventare amico di Anthony Io lo voglio bastardo infame per diventare amico di Anthony Io lo voglio Voglio diventare amico di Anthony Tutti vogliamo diventare amici di Anthony Diventa anche tu amico di Anthony Amicizia Signor Antonio, buon pomeriggio Buon pomeriggio Mi chiamo Gilberto Gilberto mi chiamo Gilberto? Sì, Gilberto, mi chiamano tutti Giba Sono un DJ di una piccola realtà radiofonica Io conosco le persone che hanno abusato di lei Le hanno fatto degli scherzi veramente di bassa leva in questi mesi Siccome io ritengo che sia una cosa veramente spreggevole Una cosa veramente di bassa leva fare degli scherzi a delle persone Tra l'altro io ho dei genitori Anche quindi so che fare degli scherzi a degli anziani Non è propriamente una cosa eccezionale Io sono perfettamente d'accordo con lei Io le ho chiamato innanzitutto per farle le mie scuse Da parte dei ragazzi che le hanno fatto questi scherzi E io siccome so che lei ci tiene Che una persona si qualifichi sempre quando la chiama Ed è giusto che sia così Io mi chiamo Gilberto Gilberto? È questo che intendeva per silenzio assoluto Non si preoccupi signore Conosco il mio uomo Metterà una buona parola Ok, mi chiamano tutti Giba Faccio il DJ in una piccola radio Più o meno piccola Il mio codice fiscale è PNZ E questa è la mia paternità Ecco, glielo dico perché so che lei ci tiene Con questo io vorrei dirle semplicemente che mi dispiace tantissimo E vorrei porgerle un saluto E se è possibile, se lei me ne dà la possibilità Vorrei considerarmi un suo amico Perfetto Io, signor Antonio, io la ringrazio Le auguro una buonissima serata E la ringrazio per l'amicizia che lei mi sta assegnando Benissimo Arrivederci, stia bene Grazie, grazie Grazie, salve, grazie, salve Non è possibile È la tua voce, ma solo che qua non vuole sentire Non è possibile Ragazzi Ma non è possibile Sai che se lo chiamo io oggi Mi spara direttamente nel telefono? Allora, voglio andare oltre Vado a chiedergli l'amicizia su Facebook